Lo sport che sia sempre più veicolo di aggregazione, promozione sociale, rapporto col territorio, cultura del rispetto delle regole e della legalità. Ed è su questo che dobbiamo impegnarci tutti quanti per una società migliore, più sana, nella quale la pratica sportiva sia aperta a tutti, indipendentemente dal ruolo che si ricopre, o dalla famiglia dove si nasce, o dal territorio in cui si vive.